Il Covid entra di nuovo in ospedale, stavolta di mezza di fatto il reparto di ortopedia dell'ospedale di Montebelluna. Sei ortopedici su 12 in servizio sono stati infettati dal virus. Un contagio che arriva in un nosocomio, il San Valentino, già in difficoltà da giorni per l'alto numero di ricoveri Covid-107 e le sale operatorie trasformate in terapie intensive dopo la decisione di mantenere Castelfranco Covid-free per la presenza dei malati oncologici dello Iov. Risultato impossibile garantire le operazioni a Montebelluna per chi si frattura. È stato quindi necessario riorganizzare l'intera attività dell'Ulse 2. Purtroppo il fatto che sei ortopedici si siano malati ha creato una situazione effettivamente difficile. Noi non possiamo pensare di lasciare le persone fratturate senza intervento per cui abbiamo concordato ieri con una riunione che abbiamo fatto tra noi, la direzione e i nostri direttori ospedale è che all'oggi le fratture dell'area asolana vengono portate a Treviso ovviamente in attesa chiaramente che i colleghi di, che quindi parliamo di 8-10 giorni, i colleghi di Castelfranco-Montebelluna possano riprendersi dal Covid-19 e rientrare. Nel frattempo è stata chiesta all'OIOV di Castelfranco la disponibilità di due sale operatorie dove poter effettuare da dicembre interventi di traumatologia sui pazienti non positivi al Covid. Quando rientreranno i colleghi i primi di dicembre poi ecco le fratture le faremo maggiormente soprattutto a Castelfranco. Intanto all'oggi i cittadini siano tranquilli perché verranno portati a Treviso. Se per quanto riguarda i contagi complessivamente la marca è nella fase cosiddetta di Plateau a preoccupare soprattutto il numero di contagi nel Montebellunese e Asolano. La situazione di Montebelluna è una situazione come dire un po' preoccupante perché sostanzialmente là abbiamo un numero di contagi che è praticamente superiore del 30-40% ai contagi che abbiamo negli altri due distretti cioè Treviso e Piedi Soligo. Lo sforzo del personale sanitario è massimo anche perché appunto tra i contagiati ci sono anche diversi medici ed infermieri e chi rimane in corsia deve lavorare anche per loro.